incontrando e l'ho nella persona la sua business director Sara De Mattia la prima domanda visto il periodo dell'anno insomma che siamo a questo inizio del 2024 è quella di andare a vedere un po quello che è stato insomma ci riassumi in un aggettivo il 2023 ciao Monica ben trovata è un piacere ritrovarti aggettivo per il 2023 sicuramente è stato un anno interessante e l'aggettivo forse che più ci sia dice è cangiante per quest'anno cangiante da tanti punti di vista quindi sicuramente un aggettivo positivo di un anno articolato che ci ha visto crescere da tutti i punti di vista in primis in termini di persone oggi siamo in 85 e a settembre abbiamo un po girato se vuoi il traguardo delle 80 persone quindi partivamo all'inizio dell'anno in circa 65 quindi tanti arrivi anche quest'anno una crescita sicuramente spinta da i clienti con cui lavoriamo ormai da tanti anni ma anche da tanti nuovi progetti e partner con cui quest'anno abbiamo avuto la fortuna di iniziare a lavorare quindi un anno interessante sicuramente per la crescita delle persone il consolidamento un po di tutto di chi siamo di quello che facciamo dei vari reparti del nostro posizionamento come agenzia che quest'anno siamo andati a distillare in maniera sempre più chiara un anno cangiante appunto ti dicevo per una serie di nuovi clienti e progetti che si sono aggiunti un pitch che ci siamo aggiudicati nel 2023 che hanno poi preso vita scusami nel 2022 che poi hanno preso vita nel 2023 e anche progetti che proprio sono nati in corso d'anno abbiamo iniziato a lavorare con fila quest'anno con zalando con n26 con giochi preziosi con europa assistance quindi sicuramente un anno molto interessante e ricco di cambiamenti anche in questo senso e poi un anno cangiante anche per i premi è stato un bell'anno di recentissimo ci siamo giudicati tre argenti ai clio sport è sicuramente stato un traguardo di cui siamo molto contenti ma anche gli adc ci hanno dato diverse shortlist gli enzi awards abbiamo vinto due argenti con premio sport con costa insomma veramente un anno pieno di sorprese ecco ma cosa rappresentano i premi per voi ma anche per i clienti che valore hanno domanda interessante sicuramente i premi fanno parte del nostro lavoro come agenzia creativa e sono anche qualcosa che come dire ci motiva e ci inorgoglisce quindi quando raggiungiamo questo tipo di traguardi non possiamo che esserne contenti però mi sento di aggiungere due cose da una parte che i premi più belli sono quelli che ti porti a casa con i clienti quindi dove non è l'agenzia a lavorare con l'obiettivo di vincere premi ma quando insieme fianco a fianco con i clienti si fanno dei bei progetti che poi hanno le qualità giuste per andare a premio perché un po una una tendenza ovviamente non nuova della nostra industria quella rincorrere i premi per il puro fine dei premi questo sicuramente non c'è mai appartenuto crescendo sicuramente abbiamo anche imparato a valorizzare sempre di più la nostra partecipazione ad alcune manifestazioni e i risultati ovviamente negli anni sono arrivati arriveranno e non possiamo anche esserne contenti ma sempre partendo dal dalle persone dal progetto dalla creatività e dal lavoro con i clienti non dal che cosa ci vogliamo portare a casa come premi quindi questa un po sicuramente la nostra visione qual è la vostra opinione sul mercato attuale cioè come è cambiato il rapporto tra clienti agenzia comunicazione e qual è il vostro posizionamento in merito sta cambiando in sicuramente ad un ritmo forse mai a cui non abbiamo mai assistito storicamente cioè sono anni e questo trend sicuramente continuerà in futuro in cui la velocità con cui si evolvono le community e di conseguenza come i brand si devono lavorare con le community come si evolvono i brand stessi come si evolvono le tecnologie il contesto culturale socio economico geopolitico insomma sono tantissimi fattori di complessità con cui ogni giorno ci troviamo a confrontarci e diciamo in questo scenario che sicuramente sempre più complesso e sfaccettato ci sono alcuni che ha alcune chiavi che probabilmente ci fanno un po da guida nel lavoro tutti i giorni una è il fatto di creare insieme lo citavo anche un po con riferimento ai premi e vale però anche per il prodotto creativo in generale sia nel rapporto sicuramente con i creator e con l'influencer che diciamo è davvero funzionale e dai suoi risultati quando è un lavoro fatto insieme quando il creator mette un suo contributo attivo ma mi riferisco anche alla co creazione con i clienti non c'è forse cosa più bella che sedersi al tavolo con con i clienti e fare brainstorming insieme anche creativo perché poi questa cosa nel come le idee crescono e si portano a casa i risultati si vedono quando c'è e quando manca quindi nell'affrontare insieme questa complessità aiutandoli anche un po a navigarla c'è un po la nostra la nostra missione l'altro probabilmente punto focale è quello della flessibilità flessibilità che sicuramente ci contraddistingue da sempre e che uno dei punti di forza proprio che i clienti riconoscono in noi ma che diventa imprescindibile per tutti cioè le visioni granitiche di quello che si fatto che siamo abituati a fare che si è sempre fatto le visioni troppo ego riferite che diciamo chiudono un po lo sguardo al cambiamento e al fare le cose diversamente anche un po mettendosi continuamente in discussione dove manca fa la differenza diciamo e quindi sicuramente c'è un buon punto di risonanza positiva l'altro aspetto sicuramente chiave in questo momento il lavoro coi clienti è la componente anche di innovazione di tecnologia che ovviamente è sempre stato ormai da diversi anni al cuore della conversazione ma che nell'ultimo anno nell'ultimo biennio con una concreta ripercussione sicuramente nel prossimo anno c'è quello delle intelligenze artificiali del ruolo della tecnologia anche nel lavoro creativo da questo punto di vista credo che possiamo solo che essere ottimisti si potrebbero fare mille discorsi mille previsioni poi ce lo dirà il tempo però è uno strumento che amplifica le potenzialità creative che non dobbiamo vedere come come dire un mostro che incombe le nostre vite chiaramente dobbiamo essere noi e anche la nostra etica da professionisti a governarlo e a utilizzarlo al meglio tuttavia credo che possa solo che ampliare rendere più autentiche potenzialmente le esperienze che facciamo tutti i giorni come persone come creativi come brand e così via l'abbiamo detto all'inizio si parte con il nuovo anno quindi sono d'obbligo chiedervi che previsioni avete in merito e anche qual è l'augurio la visione per l'anno che verrà sicuramente l'obiettivo è continuare a crescere è un anno appunto lo dicevo all'inizio di maggiore maturità anche quello che ci lasciamo alle spalle e che credo darà i suoi frutti anche nel prossimo anno quindi un anno a cui ci approcciamo sicuramente in un contesto di incertezza ma con grande positività forti appunto nell'ottima squadra che siamo quindi obiettivo di continuare a crescere due aree sicuramente di due o tre aree di investimento anche nel prodotto in generale nel luogo di lavoro che siamo la prima proprio sull'innovazione della tecnologia su cui appunto ci saranno novità aggiornamenti rispetto alla nostra organizzazione e a quello che ci piacerebbe fare con i nostri clienti l'altro aspetto è sicuramente la costruzione costante di un luogo accogliente per tutti dove la diversità e l'inclusione siano non solo al cuore di chi siamo come posto di lavoro ma che abbia un riscontro sempre più concreto anche nei progetti che sviluppiamo per i nostri clienti e la terza cosa è a continuare a divertirci facendo quello che facciamo che sia un obiettivo che ci diamo un augurio che facciamo a tutti noi tutti perché alla fine il bello del gioco della pubblicità è anche soprattutto questo